Buonasera a tutti ragazzi, allora inizia ufficialmente il vlog che racconterà la realizzazione della lettera questo mediometraggio che abbiamo deciso di realizzare con la tanto di cappello siamo in un posto meraviglioso, sembra di essere in una favola, non in un paese sembra di essere nel paese delle meraviglie, siamo io ed Enzo, che è lui, proprio lui, questo tizio qui abbiamo fatto la prima giornata di analisi del territorio, abbiamo visto un paio di cose domani mattina andiamo a fare un po' di voli di prova per le riprese aeree, di ricerca di posti belli, fantastici vi terremo aggiornati, un abbraccio, sosteneteci, presto uscirà fuori il nostro progetto di crowdfunding io sono impresentabile, mi rendo conto, sono con la magliettina nera perché fa figo però in realtà sono zarro con questa barba tagliata male, però voi mi volete bene lo stesso e quindi mi accettate per come sono buonanotte da parte mia, che sono quello grosso del gruppo, quello più così buonanotte dal belloccio di turno guardate che bene, guardate che bene, mettiamo a fuoco ciao ciao ciao